Le incursioni alleate durante la Seconda Guerra Mondiale a Loreggia sullo Stiglia Treviso si sono concentrate in gran parte sul ponte sul Muson dei Sassi. Trattasi del ponte obliquo in metallo 1 a luce metri 21,87 a Travi Gemelle al chilometro 90 più 156,37. Vediamo quindi le incursioni una per una. 7 febbraio 1945 primo pomeriggio. 14 bombe di medio calibro colpiscono il ponte sul Muson dei Sassi. 24 febbraio 1945, ore 8.20. Con 8 aerei vengono sganciate 16 bombe dirette al ponte sul Muson dei Sassi. Non colpito il ponte, ma colpita casa Torresin. 1 marzo 1945, ore 16.50. Con 8 aerei vengono sganciate 16 bombe che danneggiano il ponte sul Muson dei Sassi. 3 marzo 1945, colpito il ponte in metallo 1 a luce metri 7 a Travi Gemelle sul Marzenego al chilometro 93 più 638,69. 4 marzo 1945, ore 9.00. Con 8 aerei vengono sganciate 16 bombe che danneggiano il ponte sul Muson dei Sassi. 4 marzo 1945, ore 14.00. Con 4 aerei vengono sganciate 8 bombe sui ponti ferroviari riparati dai tedeschi. Colpita casa Francescato. 6 marzo 1945, ore 10.00. Sganciate 6 bombe dirette al ponte sul Muson dei Sassi. Nessun danno. 6 marzo 1945, ore 13.00. Sganciate 6 bombe dirette ai ponti ferroviari. Distrutte due case della famiglia Marangoni. 7 marzo 1945, ore 9.00. Sganciate alcune bombe dirette al ponte in metallo, una luce, metri 7 a Travi Gemelle sul Marzenego al chilometro 93 più 638,69 distruggendolo. 7 marzo 1945, ore 11.00. Sganciate 16 bombe dirette al ponte sul Muson dei Sassi. Colpite alcune case seriamente. 18 marzo 1945, ore 7.00. Sganciate quattro bombe sulla ferrovia. Colpita la casa di Fortunato Tessaro ed ucciso un maiale. A pagina 51 della guida turistica di Valle Agredo, percorsi di natura, arte e storia nel campo sanpierese del 2015, troviamo indicato Questa indicazione che si trova sulla foto del bombardamento del ponte, però, mi porta a pensare ad una sorta di esito finale. Da un lato non è indicata la data certa, riportando solamente il mese e l'anno. Dall'altro, 400 bombe è un numero che dà la possibilità di un margine d'errore. Pertanto, ritengo che questa indicazione voglia dire che ora di marzo del 1945 erano state sganciate in totale circa 400 bombe farfalla che hanno distrutto il ponte. Quindi, non 400 bombe in un solo giorno, ma sommando le varie incursioni. Vero, non è specificato il luogo, scrivendo genericamente l'oreggia, ma è stato scritto sulla foto del bombardamento del ponte dell'Ostiglia Treviso. Nella stessa pubblicazione, troviamo anche indicata la presenza di un casello adiacente al ponte, che è stato anch'esso distrutto dalle bombe che avevano come obiettivo il ponte. Vi era davvero un casello lì? La risposta è sì, e lo vediamo bene da questo estratto del piano parcellare delle espropriazioni per causa di pubblica utilità. Questo è il ponte distrutto. Subito accanto, vediamo il casello, indicato con la sigla CCD, che sta per casa cantoniera doppia, al chilometro 90 più 208,94 della ferrovia. Questa era la cronistoria delle incursioni alleate durante la seconda guerra mondiale all'oreggia sull'Ostiglia Treviso. Ci sono state anche azioni di sabotaggio da parte dei partigiani, ma non le ripeto, dato che ve ne ho già parlato in un video dedicato e pubblicato su YouTube, che vi invito a recuperare. E con l'elenco delle fonti vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. 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 Grazie.